Come sono state le belle giornate? Come sono state le belle giornate? E poi naturalmente i messaggi di saluto, di augurio dei compagni francesi e dei compagni greci che fanno ugualmente parte di una comune battaglia politica che stiamo facendo oggi in Europa. I ringraziamenti vanno naturalmente anche a tutte le compagnie che hanno gestito in questi mesi l'organizzazione del congresso, nell'ultima fase i compagni romani che hanno fatto una parte dell'organizzazione, e poi l'altra parte dell'organizzazione i compagni di Torino, la compagna Anna Maria non è qui ma ha garantito tutte le pubblicazioni che avete trovato nella cartellina insieme al compagno Adriano, e poi alla compagna Ada e al compagno Franzoso e Diego nella gestione sempre molto faticosa, economica, di rincorrere i delegati, i partecipanti affinché l'obolo fosse versato fino all'ultimo, perché poi dopo ovviamente dobbiamo andare anche a pagare, quindi il lavoro che hanno fatto Franzoso e Diego e in particolare la compagna Ada. È un congresso che è durato abbastanza lungo, in realtà siamo partiti a maggio dello scorso anno, abbiamo fatto un seminario non qui ma sempre in questo albergo, ma sempre a Chianciano, un seminario del coordinamento nazionale per cominciare i documenti, la scrittura di documenti è cominciata ad agosto, e poi li abbiamo via via perfezionati in due coordinamenti nazionali e la discussione è cominciata a novembre, se avete presente, in molti circoli, poi a dicembre e a gennaio, ma era giusto farlo, in fondo quel lavoro lì si esprime anche qui in questa partecipazione positiva, che visto che abbiamo fatto i congressi praticamente sì, in tutte le regioni, diciamo più o meno dove abbiamo una presenza, e nelle città dove abbiamo una presenza organizzata, e poi forse daranno anche dei dati la commissione, ma il congresso è servito anche a costruire intorno a noi una nuova attenzione, un'adesione importante di compagni e compagni. Tra dicembre e gennaio c'è una crescita significativa già dell'organizzazione, credo che dobbiamo utilizzare i risultati di questi giorni per non mollare la presa, per stare sulla palla come, non so, questa espressione, non so se calcistica, ormai generalizzata. Quindi questa è la prima osservazione, non diritto, ma molto importante, molto qualificata. Quindi l'organizzazione c'è, è un'organizzazione, abbiamo detto più volte, che prova a misurarsi sul terreno complessivo nazionale, non ha tutte le forze per fare questo, non ha tutte le forze per intervenire in tutti i settori di lavoro, ma usciamo di qui con più convinzione di poterlo fare. Adesso vediamo se riusciremo a darci tutte le gambe per essere all'altezza di questa sfida. Molti nel congresso sono anche intervenuti dicendo che abbiamo consolidato una sfida, realizzato una sfida che non era automatica. Devo dire che anche a livello internazionale non tutti erano così sicuri che ce l'avremmo fatta. Devo dire che abbiamo avuto anche degli aiuti internazionali importanti, in primo luogo dal punto di vista politico, e di certo poi in particolare il rapporto con l'esperienza dei compagni greci è stato per noi fondamentale per capire di più e anche per poter quindi fare le battaglie politiche oggi in Italia. Sulla situazione internazionale, diciamo in questa prima parte, dico soltanto due parole, ne abbiamo parlato, se avete visto un po' nella tavola rotonda che abbiamo fatto l'altra sera, il quadro è completamente cambiato. Cioè rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, la crisi di accumulazione del capitalismo, tutte le sue contraddizioni sono come dense nuvole nere ripiene di pioggia, di tempesta che possono cadere sulla testa in qualsiasi momento. Renzi ha un bel po' di dire che tutto va bene, in realtà anche il suo percorso che finora non ha trovato particolari estacoli potrebbe trovarli rapidamente nella precipitazione della crisi stessa. Naturalmente queste nuvole nere, queste tempeste non sono soltanto sui capi dei governanti, ma sono sui capi sulla testa della classe lavoratrice, con tutte le miserie, i drammi che questo può portare, oltre a quelli che già abbiamo conosciuto. Tempesterebbe sul bagnato se questo avverrà, come però sta nel quadro. E in questo quadro produce anche le guerre, perché questo è l'elemento che abbiamo di fronte. E di fronte abbiamo tante forze contro cui combattere. Perché questa nostra polemica qualche volta con le compagni, i compagni di altre organizzazioni che continuano a immaginare un mondo facilmente bipolare, cioè l'imperialismo da una parte come elemento del nostro nemico di fondo, in realtà gli imperialismi sono tanti, sono molteplici, io lo ricordavo l'altra sera, e ci sono anche forze regionali importanti, collegate in diverse forme all'imperialismo, che però giocano la loro partita. E ci troviamo di fronte non solo a una forza reazionaria, a tante forze reazionari. Perché l'ISIS è da combattere quanto l'imperialismo americano, non ci piace il neozarismo moscovita, non ci piace l'Arabia Saudita che è quella cosa lì, ma non è che all'improvviso l'Iran è diventato buono, tanto per dire qualcosa, e potremmo andare avanti. Quindi noi viviamo in un'epoca reazionaria, e l'epoca reazionaria è dovuta al fatto che in una serie di paesi ci sono state delle sconfitte pesanti, le rivoluzioni arabe, ma quel che è avvenuto in Europa, e anche quel che sta avvenendo in America Latina, segna, Moscato l'ha ricordata attentamente, governi progressisti, importanti, con esperienze importanti, ma alla fin fine anche lì il problema è se non si rompe le leggi dure del capitalismo c'è il rischio di tornare indietro pesantemente. E le leggi dure del capitalismo sono anche gli stati. Non si può costruire la transizione al socialismo con gli stati capitalistici esistenti, perché sono strutture costruite dalle classi dominanti dalla borghesia esattamente per mantenere il loro potere, non per favorire l'autorganizzazione, lo sviluppo, la democrazia, la partecipazione nelle masse. E se non ci si mette mano lì per trasformare la realtà, alla fine il rinculo può essere molto forte, e il rinculo è anche in termini di coscienza di classe, di partecipazione. Quello che sta avvenendo non tanto in Venezuela, ma anche in Venezuela naturalmente, ma in Brasile è piuttosto impressionante. E il Brasile non è il Venezuela. Il Brasile ha, se non vado errato, 200 milioni di abitanti, forse di più. È una grande potenza capitalista, con aspetti ormai imperialisti, perché i danni fatti dalle multinazionali brasiliani in giro per l'America e la Latina non sono di poco conto. Questo è il quadro in sé abbastanza fosco. In Europa, lo si diceva l'altra sera, l'Europa ha la grande operazione, importantissima dal punto di costruire, di unificare la borghesia europea, costruendo uno Stato europeo, costruendo un imperialismo europeo, per varie ragioni, compreso per la struttura che ha, non ho il tempo di diffondermi su questo, che ha il capitalismo oggi, non è riuscita. E da, dal punto di vista della globalizzazione capitalista, tanto più in una fase in cui c'è una lotta feroce per i mercati e c'è una diminuzione dei saggi di profitto, non essere riusciti in questa operazione, o soltanto parzialmente in questa operazione qui, e dal loro punto di vista non averlo conseguita, perché storicamente il movimento dei lavoratori nel nostro continente, in una determinata epoca storica, sia del capitalismo, sia dei rapporti geopolitici, aveva ottenuto una serie di conquiste e quindi aveva determinato una ripartizione delle ricchezze diverse. O meglio, quel quadro lì aveva potuto essere sopportato facilmente dal sistema capitalista, nel quadro di quella che chiama l'età dell'oro del capitalismo, in cui era possibile coniugare alti tassi di sviluppo, alta produttività, alti profitti, e quindi alti livelli di produzione, e anche possibilità di salari più alti, di piena occupazione, quel compagni e compagni è finito all'inizio degli anni 70. Quel mondo lì particolare della storia del capitalismo è finito, non esisterà più. Ritorniamo nei gironi infernali del capitalismo dell'Ottocento, nei gironi infernali del capitalismo della crisi degli anni 30, e è in questo nuovo scenario che noi dobbiamo purtroppo concepire la nostra azione politica. Dico purtroppo perché sarà più difficile, sarà più dura, bisognerà, ma non ce la faremo e non ce la stiamo già esattamente facendo a difendere tutte quelle conquiste, tutti gli elementi che sono stati ottenuti. E la battaglia per un altro tipo di società dovrà essere combattuta. Questa è la cosa. Perché significa questo lo slogan anche richiamato qui del socialismo della barbarie. Diciamo, la barbarie c'è già largamente in realtà, basta guardarti intorno. E la barbarie è quella che non si è voluto vedere nelle cose che succedono in meridiente, nei bombardamenti, negli interventi dell'imperialismo. E la barbarie ovviamente dell'Isis terrificante. Non è proprio un messaggio lanciato ai giovani, venite dell'Isis e potrete tagliare la testa come volete ai vostri nemici. Non è proprio un messaggio, diciamo così, non è il nostro messaggio. Una cosa di questo genere. Come non è ovviamente il nostro messaggio, venite nelle forze armate, venite nell'aviazione e potrete andare sulle città, sui villaggi, eccetera, a schiacciare un bottone a distruggere quel che c'è sotto. Ma adesso anche in una nuova versione. Siete davanti a un computer e potete schiacciare un bottone che alimenta veicoli, droni capaci esattamente di fare lo stesso tipo di cose. Pensate che battaglia anche ideale di difesa dell'umanità di fronte a questa inumanità. Noi siamo anche questo. I marxisti rivoluzionari sono anche questi. Non rinunciamo alla umanizzazione di una umanità e di un sistema che diventa sempre più inumano. E in Europa, dicevo, il quadro è a Cablan, direbbero i francesi in particolare, che sono al centro di un'involuzione senza precedenti. Come quel che è successo in Grecia e la sconfitta ha determinato un'involuzione a destra in tutta Europa, le vicende poi drammatiche della strage di Parigi hanno favorito l'operazione della militarizzazione del territorio ed oggi però non è pensabile che quel che succede lì in Francia non coinvolga. Non è pensabile e, diciamo, i processi verso la guerra non coinvolgano tutti quanti. Può essere il domani, i tempi si restringeranno e la nostra vita rischia di cambiare profondamente, non solo per quelli che sono di là o per cui è già cambiata profondamente quella vita. È solo per, diciamo, avere la consapevolezza sai come quando si va, sapete, quando si va in giro e si guarda i tabelloni in una città che non si conosce eccetera e c'è la cosa voi siete qui. Noi siamo qui in questo tipo di nuova situazione e, diciamo, per questo anche noi, per provare ad affrontare le sfide in Europa proveranno ad essere tra tre settimane a Madrid a questo incontro di coloro che vogliono costruire rispetto al I Memorandum un altro piano. L'altro piano noi lo chiamiamo il piano A perché è l'unico, il piano B diciamo per alcuni, infatti l'incontro di Madrid è un incontro tra quelli del piano A e quelli del piano B sostanzialmente. È un incontro che deve servire esattamente anche ai nostri compagni spagnoli a reggere quelle difficili sfide che ieri Luciano Borselli ci ha ricordato. E ci ritroveremo ancora su iniziativa dei compagni dreci di Dea a maggio in un seminario di approfondimento che vedrà protagonisti oltre a loro ancora una volta i francesi gli spagnoli e noi che siamo stati invitati per provare a ulteriormente lavorare sulla strategia in Europa su come sia possibile reagire a questa offensiva. E come abbiamo lavorato noi qui? Ma io credo che abbiamo fatto adesso non vedo più davanti a me il compagno Sergio bella vita ma noi abbiamo proprio fatto un lavoro di verità. La verità è rivoluzionaria diceva lui ieri confermiamo che è così e in fondo tutta la parte prima di elaborazione del testo la prima parte del testo è una riconoscimento è una una disamina della realtà una realtà infelice che è la realtà delle sconfitte ed è anche la consapevolezza delle sconfitte perché noi non ci rassegniamo all'esistente quel che è peggio è quando vai in giro e sento dire siamo stati sconfitti non possiamo fare nulla capire la connessioni che hanno determinato la sconfitta è la base per costruire la possibilità della ripresa e in questo senso se no finiremo anche peggio perché non c'è termine al peggio non è che se uno dice non mi occupo più di politica non faccio più la militanza perché mi sono stufato se ne sta tranquillo a casa qualcuno lo verrà a prendere a casa qualcosa gli cadrà sulla testa sarà un mattone sarà un licenziamento sarà la perdita del salario accessorio ma qualsiasi cosa di questo genere cambierà la sua vita non c'è più il servizio militare obbligatorio e quindi perché se no non c'è adesso se no ci sarebbe stato pure il rischio per le madri per i padri di vedere il loro figlio mandato da qualche parte non c'è più e quindi apparentemente questa contraddizione forse che c'è stata il sistema capitalista in passato oggi non c'è più e noi vogliamo capire gli agenti patogeni della sconfitta vogliamo capire chi sono gli amici nemici vogliamo capire e bisogna capire chi è stato con noi e chi ha lavorato contro di noi e vogliamo capire perché siamo finiti così in fondo e devo dire non è una cosa che è avvenuto una sola volta nella storia del movimento dei lavoratori un tale un rivoluzionario ovviamente c'è caro come ci sono cari tanti rivoluzioni altri rivoluzionari da Lenin a Rosalux a Murace Guevara eccetera questo si chiamava Trotsky e nel 37 scriveva siamo alla vigilia della mezzanotte del secolo pensate il fascismo sta per scatenare la seconda guerra mondiale a Mosca la rivoluzione conosce la sua involuzione più profonda con i processi di Mosca la distruzione di quel partito che aveva realizzato la rivoluzione d'ottobre perché finiranno quasi tutti fucilati i protagonisti di quella rivoluzione e scriveva epoche reazionarie come la nostra non solo disintegrano e indeboliscono la classe operaia ed isolano la sua avanguardia ma abbassano il generale livello ideologico del movimento e gettano il pensiero politico indietro di molti stati e poi aggiungeva le grandi sconfitte politiche provocano una riconsiderazione dei valori generalmente in due direzioni da una parte la vera avanguardia arricchita dall'esperienza della sconfitta difende a denti stretti l'eredità del pensiero rivoluzionario e su questa base si sforza di educare nuovi quadri per la lotta di classe a venire dall'altra parte gli abitudinari i centristi i dilettanti un immediatamente immagina qualcuno della fauna politica italiana spaventati dalla sconfitta fanno del loro meglio per distruggere l'autorità della tradizione rivoluzionaria e tornano indietro alla ricerca di un mondo nuovo un mondo nuovo nelle utopie o nell'opportunismo questo veniva scritto tanti anni fa ma a me pare quando l'ho trovato una cosa terribilmente drammaticamente attuale e diciamo così proviamo a individuare gli amici nemici dopo tanto tempo una parte della sinistra ha scoperto che il PDS e PD non sono amici che hanno gestito l'austerità le politiche riformiste ma molti diciamo questo è un caso un attimo fermiamoci attenzione diciamo non proprio completamente perché alcuni pensano che se il PD si togliesse dai piedi Renzi tornerebbe diciamo un magnifico centro-sinistra dalle sorti future e progressiste quasi che diciamo e qui qualcuno l'ha ricordato anzi nella relazione introduttiva era ampiamente ricordato i diversi ministri del PDS cioè che nel corso degli ultimi vent'anni o più hanno smantellato e hanno aperto la porta a questo tipo di situazione ma molti non prendono mai in considerazione un altro elemento che noi invece ricordiamo con profondità perché se quelli hanno menato le botte in testa alla classe lavoratrice e alle classi popolari c'è qualcuno che ha tenuto fermo la classe lavoratrice perché se no non si capisce che cosa è successo cioè se non ci fossero state le direzioni sindacali o le organizzazioni burocratiche del movimento dei lavoratori che non erano poi così indebolite come qualcuno poteva pensare o diceva se non gli avessero detto guardate che bello il welfare il protocollo sul welfare per fare solo un esempio o altre cose se di fronte all'attacco della fornera alla pensione alcuni non avessero detto o che bello e una terza CGL non avesse detto tre ore di sciopero ma senza neanche fare troppi volantini per dire che c'era lo sciopero tutto questo avrebbe determinato uno scenario diverso è incomprensibile quel che è avvenuto in Italia senza ricordare questi elementi qui e senza capire che questi sono ugualmente diciamo avversari da combattere con un problema più grosso naturalmente perché il PD lo prende di fronte è un avversario le grandi organizzazioni sindacali dirette da questi apparati organizzano e motivano ancora e certe volte anche mobilitano ai loro fini settori importanti di massa e questo è diciamo così esprime la necessità di un compito più gravoso che quello noi esprimiamo nel costruire le opposizioni dentro la CGL nel lavorare per un sindacalismo di classe che è una cosa in cui siamo rimasti drammaticamente troppo soli non dico completamente soli ma troppo soli e soltanto pensate un attimo anche a quello che è avvenuto le giornate di Genova la battaglia contro la concertazione dell'inizio del secolo il circo massimo non del family day ma il circo massimo di cofferati la primavera di Melfi si sono scolorite rapidamente poi è arrivato sotto il governo Prodi quelle organizzazioni sindacali che non a caso hanno fatto un referendum per far accettare il cosiddetto protocollo sul welfare che altro non era che la riaffermazione ancora una volta della legge 30 cioè delle leggi del decreto 276 sulla precarietà e poi l'accettazione delle politiche di Prodi e successivamente l'accettazione delle politiche di Berlusconi Monti Letta fino a oggi e la FIOM che per un certa fase aveva combattuto si è trovato di fronte che era stata protagonista delle giornate di Melfi e a Melfi però c'erano anche altri due dirigenti rispetto ad adesso all'interno della FIOM o che faceva come la compagna Eliana ci ha ricordato nel suo recendo articolo non aveva problemi a fare alleanze anche contrastando la CGL con l'organizzazione sindacale di base questa FIOM si è trovato di fronte l'uragano Marchionne che è arrivata adesso io rompo le regole rompo le regole chiudo delle fabbriche cambio il contratto e bisogna dire che non ce l'ha fatta la FIOM perché in primo luogo non è riuscita a tenere insieme tutta la FIA e alla fine fabbrica per fabbrica la battaglia è stata più dura e tre stabilimenti sono stati chiusi e anche la battaglia di Pomigliano e di Mirafiori sui due referendum sono state battaglie difensive difficilissime su cui diciamo solo all'ultimo c'è stato un po' più di convinzione e si è stati sconfitti però belle testimonianza meravigliosa grande impegno abbiamo passato anche noi di nuovo e le notti là ma questa io la chiamo ed è dichiarata nel testo la seconda sconfitta di Mirafiori qui all'inizio avete visto la prima sconfitta la grande sconfitta quella degli anni 80 ma anche la sconfitta del 2011 2012 ha alterato la condizione della classe lavoratrice del nostro paese ha ulteriormente mutato i rapporti di forza e agli imbecilli che in realtà non erano imbecilli erano in malafede dicevano no ma quella cosa lì quel tipo di contratto quelle metodologie il metodo marchionne vale solo per quelle aziende lì non è vero era esattamente aprire la porta alla derogulation ovunque esattamente al libero sfruttamento perché questo è il libero sfruttamento da parte senza più regole da parte loro e questo ha determinato anche il ripiegamento alla fine del gruppo dirigente della FIOMA diciamo noi certe volte siamo molto criti giustamente siamo molto criti ma ne capiamo anche la radice materiale del ripiegamento e dell'involuzione del gruppo dirigente della FIOMA perché nel frattempo ci sono state le battaglie non fatte o non fatte fino in fondo come il jobac le pensioni la scuola prima ricordata e ogni volta però che si apriva una finestra qui è stato ricordato anche è stata subito chiusa quelle dell'autunno del 2014 nella lotta contro il jobac che ricreava effettivamente un blocco sociale quello dei metallmeccanici in varie occasioni i bancari qui è stato parlato io ho perso un pezzettino dell'intervento molto interessante del compagno ma c'è stato uno sciopolo dei bancari e degli assicuratori se non vado errato agli oscia mi correggerà non lo vedo manda qualche parte eccolo laggiù che ha avuto il 90% di partecipazione blocco totale e nella società capitalista senza le banche non si funziona quindi diciamo loro sono uno degli elementi fondamentali della lotta di classi i bancari perché hanno la possibilità di bloccare il funzionamento di determinati meccanismi nel sistema e poi gli alimentari il commercio c'è stato delle grandi mobilitazioni poi stoppate sono state ricordate e la lotta di classe non è una cosa come pensano i burocrati che io la apro e la chiudo a comando come un rubinetto Nando ha già detto molte cose io aggiungo che è una follia la lotta di classe ha le sue leggi la crescita della coscienza cresce in relazione alle lotte come diceva allo scontro ai successi tu non è che dici no adesso smettiamo poi riprendiamo perlomeno devi organizzare la transizione tra la lotta di oggi devi tornare nelle fabbriche nell'assemblea fare l'assemblea e poi ricostruire le condizioni per riprendere ma se chiudi chiudi non è che poi dopo un mese un anno o più quanto interessa le burocrazie magari dare un segno di vita per avere qualche prebendi in più o qualche spazio politico in più poi riapri il rubinetto non funziona così non funziona assolutamente così il rischio di un ritorno indietro spaventoso è terribile da questo punto di vista e diciamo e noi ne abbiamo avuto tanti cioè tanti esempi di questo posso è un po' come cioè ai lavoratori quando hanno riprovato a volare di nuovo gli si tarpa le ali questa è la cosa che è avvenuto noi non neghiamo tutte le difficoltà anzi noi sapevamo molto bene tutte le difficoltà Adriano ci ha ricordato e in più occasioni diciamo che all'interno dei direttivi della FIOM per mesi si è negato la sconfitta e i passi indietro ma guardate esattamente quello che era successo nell'80 alla FIAT ma l'80 alla FIAT si è negato per anni che c'era stata la sconfitta a parte il volantino del partito comunista italiano la mattina dell'assemblee in cui c'era scritto che era una grande vittoria l'accordo che invece tagliava la testa 23 mila lavoratori anche se i militanti di base del partito comunista quel giorno si rifiutavano di dare quel volantino a onore diciamo a salvare diciamo c'erano i dirigenti e a dirigere quella cosa lì sapete chi c'era? c'era il compagno Fassino e Ferrara anche mi è stato suggerito giustamente questo tipo di nome c'era anche il segretario un altro segretario che in quell'assemblea lì che voi avete visto alla fine dell'assemblea dopo il voto dell'assemblea lo ricordo perché nel film non c'è perché mentre gli altri tutti si disperavano i nostri compagni hanno portato la mozione alternativa per dire noi dobbiamo rilevare la direzione se non ci dirigono loro noi dobbiamo farci carico di questo e il consiglione votò contro massicciamente ma non aveva le condizioni politiche perché noi non eravamo comunque abbastanza forti con l'organizzazione e quindi come sinistra sindacale di prendere rilevare quella lotta ma il segretario di Piccidi allora preso dalla rabbia di quel voto non trovò altro modo che per esprimere la dialettica politica che nel mettermi le mani addosso questo era diciamo così per portare anche il ricordo di sconfitte che pesano fino ad oggi e diciamo tutto questo in realtà che ho detto non è solo un'analisi è un orientamento politico è un elemento formativo diciamo è un bagaglio la cassetta degli attrezzi diceva parlava Chiara oggi con cui affrontare il futuro cioè tu non lo dirò subito tu non rinunci ma devi sapere che è avvenuto questo e devi partire dalle contraddizioni o delle dalla valorizzazione di quel che c'è ancora per provare a combatterlo invece alcuni pensano di poter questi sconfitte quindi hanno avuto un effetto tragico mandano indietro la coscienza di classe e spingono indietro anche le forze politiche come diceva il compagno Trotsky 60 anni fa perché le spingono indietro cioè anzi che dico 80 anni fa 80 80 80 perché perché diciamo se noi guardiamo l'alternativa al PD qual è prospettata oggi è bellissima nell'immagine in cui ci sono una parte c'è alcuni che hanno gestito le politiche degli anni nel primo decennio del secolo moderate vi ricordate le performance di Cofferati come sindaco di Bologna eh tanto per dire non dimentichiamoci ma ma chiamato lo sceriffo la firma della pensione la firma della pensione cioè della prima grande contro riforma o Fassina stesso ministro viceministro dell'economia diciamo tutti che non hanno avuto problemi a gestirsi l'austerità per alcuni anni poi sono entrati in rotta e adesso pensano di dare loro l'orientamento insieme a SEL che ha avuto un ruolo il suo personaggio un ruolo fondamentale nella catastrofe del partito della rifondazione comunista è che oggi si propongono come che cosa come quelli che diciamo dovrebbe essere l'alternativa l'alternativa perché per cosa sostanzialmente loro dicono per rappresentare la classe la classe ha bisogno di una rappresentazione che cosa vuol dire la classe ha bisogno di una rappresentazione lavoratori e lavoratrici votatemi votate e andate a votare fate votare significa questo ovviamente c'è uno spazio politico noi diciamo non è che consideriamo illegittimo quel che loro fanno ma semplicemente non è quello che pensiamo serva oggi è un elemento dell'involuzione a destra poi ci sono quelli che di fronte a questo quadro internazionale globale pensano che si possa riconquistare un rapporto di forza ripiegando su qualche forma o qualche progetto economico politico su scala nazionale qualcuno anche si inventa la storia dei fronti i nemici dei miei amici i nemici dei miei demici diventano miei amici senza diciamo senza guardargli la carta di identità a quale classe appartengono che cosa stanno facendo è un'involuzione a destra anche questo è utopico anche da questo punto di vista qui pensare di ricostruire un'economia su una base nazionale è follia pensare di abbattere il capitalismo in un paese e dover ricominciare la ricostruzione di un'economia questo sì è necessario è possibile perché si comincia da dove si rompono gli anelli ma dentro un quadro di progetto internazionale dentro un rapporto internazionale questa è la nostra alternativa in Europa e poi ci sono tutte quelle formazioni politiche diciamo che l'autonomia per me è sempre stata un'organizzazione riformista non costruisce un percorso per il socialismo per la presa del potere diciamo un riformismo che come c'è stato in America Latina e ha fatto tanti guai negli anni 70 lì era il riformismo armato era armato ma erano dei riformisti questa è la cosa e loro diciamo sono diciamo la lotta di classe era per molti di questi adesso un po' meno ma su questo magari dirò qualcosa dopo la loro istrinsezione della loro giovanile esuberanza anche se i dirigenti poi diciamo la giovanile esuberanza ormai l'avevano perso già da un po' un po' di tempo e per me anche questo è un'involuzione verso destra e i nostri cari compagni che diciamo non hanno più ritenuto di voler avere un'organizzazione politica e si limitano a una dimensione sociale noi non non pensiamo che sia negativo quel che fanno dal punto di vista dei rapporti sociali che costruiscono delle cose che fanno ma non esistono diciamo il problema è l'isola felice è un pezzo di strategia cioè nel senso che pensi di poter costruire questo e poi chissà perché questo quel che ci hanno detto per ora non si può all'organizzazione si fa questa cosa qui e poi un domani perché non esiste più il movimento operaio organizzato dopodiché diciamo la lotta di classe è impietosa perché alla fin fine a un certo punto non hanno trovato di meglio di cercarsi un rapporto dopo aver detto che non esisteva più il movimento operaio organizzato non preoccupandosi delle nostre preoccupazioni del lavoro dentro la FIOM di trovare nell'attuale direzione della FIOM cioè nella sua fase più moderata l'idea è che con loro cioè col movimento operaio più vecchio perché la FIOM è l'organizzazione più vecchia del movimento operaio non ha trovato di meglio che pensare a un'illusione di poter costruire esattamente nella coalizione sociale nella coalizione sociale una risposta una coalizione sociale per cui noi siamo favorevoli ma la coalizione sociale che cos'è? Una coalizione sociale io li penso come è stata nella mia esperienza in forme diverse perché i soggetti diversi cioè sono in primo luogo le mobilizzazioni e le lotte dei lavoratori che permettono anche la collugazione di tutti i movimenti sociali per avere il rapporto di forza se io riesco a bloccare la fabbrica i servizi tutta una serie di cose favorisco anche l'organizzazione dei disoccupati dei precari di tutta un'altra serie di settori questo è credo la nostra coalizione sociale l'idea del blocco sociale diciamo però servono tutti gli elementi per poter fare perché ci sia la composizione chimica che permette la riunificazione del movimento dei lavoratori e dell'insieme delle forze e qui veniamo quindi all'altro punto diciamo che è il punto della strategia su cui provo il punto della strategia ne abbiamo già parlato ma tanto faccio l'ulteriore mi capita di discutere con molte persone l'ultima Gallino attraverso anche il suo libro che dice no ma questa strategia questa politica della borghesia è folle è irrazionale non porta da nessuna parte porta alla guerra porta alla miseria e nello stesso tempo non risolve i problemi non hanno rilanciato i profitti no? non hanno rilanciato l'economia capitalista o meglio i profitti ne hanno rilanciati in parte per una fase ma non sufficientemente per creare le condizioni di una nuova accumulazione capitalista dinamica questa è la cosa che loro in cui sono e ci dicono ma è irrazionale questo tipo di cosa lo spiega i miei nipoti anche dice Luciano Gallino nel suo libro però non è così per loro è razionale è stato detto diciamo così è assolutamente razionale questo tipo di Mandel ci spiegava continuamente che diciamo è ovvio che la concorrenza capitalistica provoca il caos è irrazionale no? però perché avviene? ma qualsiasi consiglio di amministrazione decide su una base razionale i profitti sono andati giù questa fabbrica non le garantisce più la chiudiamo spostiamo là riduziamo il costo dal loro punto di vista queste scelte sono assolutamente razionali dal punto di vista economico e razionali dal punto di vista politico perché l'obiettivo è sconfiggere il movimento dei lavoratori sconfitti il movimento dei lavoratori si possono ricreare le condizioni di maggiore sfruttamento ed aumento quindi diciamo però gli funziona male anche questo in questo momento che esprime semplicemente la profonda crisi storica del capitalismo però questa profonda crisi storica del capitalismo arriva nel momento in cui in Europa la curva del movimento operaio è la più bassa la credibilità del socialismo quasi non c'è per la prima volta io non lo so diciamo così bisognerebbe avere questa cosa mentre per tutti il novecento milioni centinaia di milioni hanno identificato nella parola socialismo l'idea della loro liberazione oggi questo non c'è più e questo anche terra incognita questo vuol dire che non dobbiamo più usare la parola socialismo io non sono per così io ho ripresa usarla bisogna dire che di fronte a questa barbaria la guerra eccetera un obiettivo di una società diversa che gli è stato dato quel nome lì e poi naturalmente l'ha spiegata bisogna spiegare che il socialismo non è Bettino Craxi bisogna spiegare che il comunismo non è il compagno Cernienco per dire ma forse non vi ricorderete diciamo che era il compagno Cernien diciamo così e tutta una serie di altre cose ma quella società non può non essere il nostro orizzonte e se ovviamente come giustamente diceva Nando non basta questa propaganda diciamo così però noi dobbiamo anche discutere diciamo provare a farlo capire e anche diciamo a costruire un'avanguardia che esattamente mantiene questo obiettivo politico qui e tutto questo però significa anche che se questo è il capitalismo qualsiasi idea io leggo dei bellissimi testi anche dell'altra Europa anche di Sela anche degli altri dice lavoro per tutti di nuovo il welfare liberazione del lavoro tutta una serie di cose come si dimenticano tutti di dire di individuare i nemici e questo valeva anche per Tsipras no? perché pensava che l'unione europea gli avrebbe fatto fare un compromesso e invece il compromesso non c'è non si fa prigionieri questo è il tipo di cosa ed è come già ricordano altri compagni una purotopia oggi ma non perché noi non siamo per le riforme noi siamo per le riforme solo che noi le riforme le vogliamo fare veramente e quindi la riduzione orale di lavoro generalizzata deve essere fatta veramente il non pagare il debito pubblico che è una specie di tassa esosa a favore dei profitti bisogna smettere di pagarla le banche che fanno quelle porcherie che qui devono essere nazionalizzate tutte queste cose qui devono essere fatte ma per fare queste cose qui che sono riforme occorre avere un orizzonte che dice io non mi fermo di fronte alle sacre barriere cioè pensate un attimo la comune di Parigi fece di tutto se non vai errato fucilo anche il vescovo di Parigi se mi ricordo bene diciamo così capita ogni tanto diciamo è stata importante la rieducazione anche attraverso la rivoluzione francese e poi le cose no no io sono specifico subito la mia posizione è perché i padroni capitalisti la punizione peggiore a vederli è permetter loro di vedere la costruzione del socialismo io lo ritengo quindi devono rimanere in vita per questo tipo di cosa qui e per assumere anche diciamo un paradigma dei cristiani per il socialismo in America Latina che dicevano noi dobbiamo fare il socialismo anche per liberare dall'alienazione capitalista non solo gli sfruttati ma anche i padroni stessi e gli sfruttatori noi dobbiamo fare questa rivoluzione esattamente per togliere l'alienazione che anche loro subiscono perché gestiscono lo sfruttamento arrivavano evidentemente il messaggio cristiano da questo punto di vista però non è quello che fa il Papa Francesco il Papa Francesco non fa questo lavoro che facevano i cristiani laggiù che sono stati messi da Voiti a posto e marginati esattamente il Papa Voiti e il Papa Francesco è in continuità con la storia della Chiesa come Moscato ci ha spiegato pure volte anche lui si parla bene la domenica la pace eccetera e poi però non si agisce attraverso gli strumenti che pur avrebbe la Chiesa che è potentissima per ridurre realmente dal punto di vista materiale i danni che fanno quel che fa è al massimo la carità la gestione questa lo fa è molto sperimentata da questo punto di vista da 2000 anni a questa parte allora diciamo quell'ipotesi lì è un'ipotesi diciamo il riformismo inteso che però resta all'interno è una purotopia noi l'abbiamo detto anche rispetto alla Grecia ci ha insegnato che occorre fare delle rotture perché solo aprendo delle rotture dell'ordine capitalista comincia la strada verso il socialismo se no si fa come i compagni di rifondazione i compagni di rifondazione pensate un attimo loro sono i più massimalisti nella storia del movimento operario italiano è stata una specialità il discorso del socialismo alle feste della domenica ai comizi della domenica prima di andare a mettere poi i piedi sotto il tavolo dico della mia città mezzogiorno si finisce il comizio della domenica e poi si va a mettere i piedi sotto il tavolo ovviamente al pranzo preparato dalla moglie mi pare giusto diciamo questo tipo di di cosa qui adesso diciamo Ferrer ha fatto per il 21 aprile per il 21 gennaio anniversario della fondazione del partito un articolo però dice ci vuole il socialismo le cose la liberazione degli uomini la parte e tutto quanto e cavolo dice predica bene e razzola male perché poi diciamo in tutte le altre e come ci ha spiegato qui l'altro giorno l'altro giorno ci ha detto no anticalipelismo sì ma andiamoci piano non è gestivo antiliberismo soltanto ok ma certo le parole di riforma sono antiliberiste però tu vai fino in fondo o no sei disposto a rompere tu hai appoggiato Tsipras quindi in realtà tu sei antiliberista solo fino sareste antiliberista solo se la troica ti dà disco verde questa è la cosa se no non sei più antiliberista e in realtà questo è un modo ma certo che per scrivere un volantino fare una cosa io devo rapportarmi a quel che ho davanti non scrivo tutti i volantini dicendo alla fine dittatura del proletariato viva la rivoluzione socialista eccetera cose di questo genere scrivere i volantini per poter costruire una mobilitazione una lotta eccetera ma la mia azione è rivolta a esattamente costruire il ponte tra quelle mobilitazioni lì e un ponte tra quelle una crescita delle coscienze come ha ricordato Nando oggi pomeriggio tenendo ben fisso che io devo provare ad allargare e sviluppare la lotta per porre in discussione non solo che vado in Parlamento e ottengo un risultato elettorale ma comincio a costruire di nuovo l'auto-organizzazione del movimento dei lavoratori delle masse al fine di costruire un rapporto di forza che mi permetta quando le condizioni si creeranno di operare delle rotture dell'ordine capitalistico questa è una strategia di transizione questa è una strategia rivoluzionaria non c'è una percorso non c'è né un'evoluzione riformista tranquilla verso il socialismo c'è delle rotture io sono rimasto credo che molti volte abbiano visto il film della Rosa Luxemburg no tutto sbagliato il film della Vontrotta sulla Rosa Luxemburg e diciamo quelle immagini del Capodanno della fine dell'anno del 1800 con tutto il gruppo dirigente socialdemocratico schierato tutti vestiti bene a festa perché non facevano i malvestiti allora un segno di essere all'altezza della lotta era vestire bene diciamo vestirsi decentemente non con la tuta con il lavoro e lì credevano che il socialismo sarebbe arrivato hanno festeggiato l'inizio del 900 come l'arrivo del socialismo come un prodotto normale che veniva fuori pochi anni dopo 14 dopo avrebbero votato i crediti di guerra quasi salvo la Rosa Luxemburg e pochi altri anche perché credevano cioè molti di loro le hanno votato pensando che la guerra era un episodio marginale bisognava chiuderlo rapidamente anche perché poi si riapriva di nuovo il percorso non è così il capitalismo avanza per grande non avanza né in modo lineare ma neanche semplicemente per stadi diciamo c'è una tappa poi un'altra tappa eccetera avanza attraverso il metodo della lotta di classe e non c'è nessun automatismo neanche economico noi agiamo ovviamente in un quadro delle contraddizioni del capitalismo ma alla fine la storia la fanno gli uomini e le donne nella loro lotta di classe contro i padroni contro gli altri li chiamiamo ancora padroni compagni Rolf noi altri no dicono imprenditori dattori di lavoro non lo so vengono i capitali a imprese e tutto questo e diciamo questo è esattamente la nostra strategia è raccolta in queste cose che ho detto diciamo così diciamo come ricostruire partendo dalle lotte che ci sono dalle battaglie antiliberiste che faccia crescere la coscienza di classe che nello stesso tempo porta all'autorganizzazione guardate c'è una certa differenza anche diciamo chiamare soltanto uno sciopero e dire veniti in piazza e nello stesso tempo lavorare per dire facciamo l'assemblea facciamo il comitato di lotta pensate c'è una bella differenza cambia perché se fai quest'altra cosa qui decidi tu le tue lotte e incidi anche sul gruppo dirigente se aspetti solo serve la chiamata centrale chiamiamolo così serve una direzione centrale ma serve ancora di più la riorganizzazione della classe dei vari settori a loro a loro livello e su questo permettetemi di dire una cosa per diciamo così noi dobbiamo in questi anni è successo un'altra cosa di merda posso dire no avete presente che diciamo chi si è inventato la storia tra precari e lavoratori precari e lavoratori subordinati chi si è inventato questa storia qui è curioso la faccenda che ce la si è inventata addirittura negli anni 70 quando c'era il massimo dell'ascesa del movimento dei lavoratori c'è qualcuno che l'ha coltivata tanto questa cosa i centri sociali che hanno contrapposto hanno creduto si sono contrapposti alle burocrazie CGL e CISLEWILL ma hanno contrapposto anche teoricamente un pezzo di lavoratori un altro pezzo di lavoratori e su questo poi sono andate a nozze le burocrazie perché anche loro hanno certo le burocrazie si sono disinteressati dei lavoratori precari eccetera hanno firmato il welfare protocollo sul welfare parentesi soltanto sinistra critica di allora votò in senato fu l'unico voto contro perché la destra uscì dall'aula per non contrastarlo perché era la loro legge tutto il centro-sinistra votò soltanto sinistra critica votò e il manifesto non scrisse nulla io ricordo molto di più quello che non la vicenda di qualche mese prima sulla guerra esattamente quella cosa lì allora favorirono in questo modo le burocrazie e poi cominciò la campagna poveri giovani senza lavoro precari guardi i privilegi di quegli altri nella fabbrica negli uffici fanno nulla e c'è cominciò questa però è chiaro che questa campagna è stata favorita anche da intellettuali da tanti diciamo da tutta l'intellettualità che anche questa è riconducibile all'autonomia questa cosa qui cioè posso dire che questi hanno fatto gli utili idioti molto utili utili per la burocrazia e utili per la borghesia adesso la partita è chiusa tutti sono più deboli i diritti sono saltati non c'è stata l'unità tra i vari pezzi e pensate un attimo quest'anno anche per quegli altri settori hanno avuto più difficoltà a mobilitarsi anche i centri sociali sono in difficoltà perché la classe è stata sconfitta e nessuno sta fuori dalla sconfitta noi abbiamo combattuto le scelte di rifondazione di fare l'alleanza di governo e quella cosa lì ma quella sconfitta quella linea politica sbagliata è caduta su rifondazione stessa è caduta sulla classe lavoratrice che non ha più avuto punti di riferimento ed è caduta su di noi questa è la realtà delle cose e quindi noi partiamo dalla valorizzazione di tutte le battaglie anche delle diciamo così l'hai ricordato tu di tutte le cose positive compreso quelli che fanno un lavoro sociale minuto chiamiamolo così diciamo anche tu ricordavi Sergio ricordava le mense in Grecia è avvenuto questo tutto questo noi non lo rispingiamo tutto quello che in qualche modo raccoglie e prova unificare e poi naturalmente le lotte territoriali le battaglie per i diritti civili solo che c'è un elemento di cui non si può fare economia e non si può fare economia delle lotte dei lavoratori non si può fare economia delle battaglie economiche politiche delle lotte dei lavoratori per un elemento molto semplice tu puoi anche vincere un referendum ma il referendum oggi chi se ne frega vinci sull'acqua e chi è che applica quella decisione lì la corte costituzionale ti dice che devi cambiare ridare i soldi ai pensionati per far finta di fare qualcosa gli ridò il 10% di quel che loro avrebbero diritto e quindi diciamo così non si può fare economia della ricostruzione del movimento dei lavoratori e delle battaglie noi non vogliamo fare solo questo ma siamo consapevoli che nella strategia di reggere oggi lo scontro bisogna fare anche questo e questo comporta una partecipazione a tutte le lotte comporta far conoscere tutte le lotte e le resistenze che ci sono provare a unire altre forze politiche per fare questo compito Ferrero non mi ha risposto alla mia proposta di dire perché non abbiamo fatto nulla insieme sulla legge di stabilità o su altre cose tutti ve le e diciamo perché ci siamo trovati i compagni di rifondazione dall'altra parte nella battaglia della CGL e qui esattamente c'è la differenza tra noi e le altre forze politiche perché le altre forze politiche quando dice vogliamo rappresentare la classe dicono votati noi vogliamo essere l'organizzazione che aiuta che aiuta la classe lavoratori più garantiti meno garantiti a ricostruire il loro protagonismo noi ci poniamo in primo luogo ad aiutarli ad essere l'organizzazione che attraverso la propaganda delle cose giuste attraverso l'agitazione attraverso i propri compagni e compagni sui luoghi di lavoro li aiuta aiuta a creare il loro protagonismo perché se questo avverrà e deve avvenire così costruisce anche l'organizzazione sono due modalità differenti di concepire l'organizzazione sono due abissi per certi versi è per questo che loro danno importanza soprattutto alla diciamo alle elezioni e a quel tipo di azioni noi non rigettiamo le elezioni diciamo anzi io anzi difendo il senato della repubblica nelle prossime diciamo possibilità diciamo perché è un aspetto della controrivoluzione democratica che è in corso quello che è stato ma noi lo diciamo quel referendum lì se non è unito a una battaglia sociale è perso in partenza anzi rafforza Renzi senza azione sociale diciamo sarà un disastro questa è la cosa e noi lavoreremo in questa direzione e poi infine diciamo così e quindi però noi abbiamo una proposta nei confronti degli altri la proposta nei confronti degli altri è molto semplice gli diciamo non è vero che c'è un solo spazio a sinistra del PD o meglio ci devono essere due opzioni a sinistra del PD è l'opzione di sinistra italiana da una parte ma c'è l'opzione di costruire sfidiamo gli altri a partecipare con noi alla costruzione in un'organizzazione anticapitalista antiliberista e anticapitalista lo diciamo ai compagni di Rifondazione glielo ho detto l'altro giorno non andate lì ma Rifondazione ci vorrebbe con loro per trattare meglio il rapporto con gli altri noi gli diciamo non andate lì noi siamo disposti a discutere con voi e con tanti altri di fare qualcos'altro di alternativo lo diciamo ai compagni dell'altro Europa e tanto però dato che non stiamo con le mani umane esattamente indichiamo tutti quelli già disponibili a fare insieme a noi una rete a costruire una rete un telaio una rete di rapporti di coordinamento tra tutti quelli che non si pongono su quel terreno moderato e ultrariformista quel senso della proposta anche che noi facciamo e che nelle prossime settimane vogliamo estrinsecare con una partecipazione non da soli ma con queste altre forze a Madrid con una iniziativa unitaria sul terreno della guerra costruita anche un'anima diciamo meglio impostata ecco diciamo meglio impostata in cui diciamo così noi possiamo essere ma questo lo dico in conclusione allora questo è il nostro approccio politico capite quindi rimane la nostra vocazione unitaria che si esprime a due livelli facciando insieme le cose che è possibile fare dal punto di vista concreto invece subito l'unità politica eccetera invece l'unità nelle iniziative sociali concrete insieme per sostenere una lotta insieme per andare ai cancelli in una fabbrica occupata in difficoltà insieme perché dall'immagine anche i lavoratori non essere soli questa è la cosa che dobbiamo fare e dall'altra parte una proposta politica questo è a livello che non è ancora la grande riaggregazione di cui non ci sono le condizioni ma che è un modo per anche sul piano politico rompere una situazione completamente troppo troppo statica e quindi diciamo questo è il senso della proposta che noi facciamo e dentro questo tipo di cosa qui c'è la questione della nostra politica organizzativa solo che Chiara ha già detto molto cose e io sono contento siete contenti anche voi perché così diciamo arrivo più rapidamente alla fine di tutto questo io dico solo questo non c'è un meccanismo automatico per cui da un buona linea politica c'è automaticamente la crescita di una buona organizzazione forza organizzazione la dimensione della politica organizzativa ha un suo specifico richiede una sua attenzione sul piano delle strutture di lavoro e di intervento sul piano dei coinvolgimenti dei compagni sul piano delle risorse da valorizzare e qui ne abbiamo viste moltissime sulla battaglia per costruire le direzioni ma contro un atteggiamento di delega per costruire i settori di lavoro per impegnare tutti i nostri compagni in un'attività politica sui luoghi di lavoro e per fare delle campagne politiche due all'anno due all'anno ma in cui tutti i circoli dell'organizzazione su quella determinata cosa si mobilita e anche questo significa due altre cose in cui dico cioè significa la costruzione delle direzioni della direzione nazionale in cui noi siamo contro le rottamazioni e le rotture ma siamo invece esattamente per costruire diciamo allargare e sviluppare e costruire il nostro futuro attraverso l'apporto ancora dei vecchi ma con l'apporto di energie e di forze nuove questa è la nostra ipotesi anche dal punto di vista del gruppo dirigente e del lavoro e nello stesso tempo e dico il mantenimento e la costruzione di quei rapporti internazionali su cui non ho non voglio soffermarmi sull'internazionale però dico ancora una cosa dei compagni che di fronte a quel che avviene in Medio Oriente di fronte a milioni di lavoratori disoccupati giovani di fronte a quel che sono le grandi masse arabe con tutto quel che è successo semplicemente non sappiano dire nulla perché loro probabilmente pensano che sia tutta una manovra dell'imperialismo e che invece quei giovani le quelle vite lì non siano come qui che si battono per il loro futuro per le loro speranze che sono inscesi in stazza per buttare via delle dittature corrotte dei governi infetenti quanto mai perché non devo vederlo come una cosa mia ma questo vuol dire rigettare il concetto stesso del partito comunista che Marx esprimeva come quel partito quell'organizzazione che assume gli interessi non solo di un settore del proletariato di una parte o i settori del proletariato a livello nazionale ma il settore dei lavoratori in tutti i paesi che è l'espressione di un interesse immediato e storico complessivo ma ha permesso che di fronte all'indifferenza rispetto a quei nostri fratelli e sorelle che sono dall'altra parte vedete vedete che arrivado su diciamo così arrivado su arrivado su da questo punto di vista non ci sia non ci sia una relazione un'attesa perché il nostro futuro dipende anche da quel che succederà in Egitto in Tunisia dipenderà se vince l'Isis se vince l'imperialismo oppure se le masse ritrovano quella strada e il nostro futuro è per interesse che lo faccio non solo perché sono utopico accipicchia questa è la cosa per questo un po' e infine domanda che tutti che io stesso mi faccio e tutti non mi hanno fatto molto ce la faremo diciamo così noi diciamo così a parte non essere la simila cubana anche se qui ci sono un po' di compagni di Napoli non lo sappiamo la nostra di classe dipende dagli uomini e le donne che la fanno io posso solo dire una cosa che quel che facciamo oggi è decisivo per l'indomani cioè noi pensiamo e abbiamo fiducia ci sarà una ripresa delle lotte del movimento eccetera però il problema è quanti saremo come saremo organizzati per aiutare i lavoratori in quel momento assisteremo da casa nostra alla televisione in cui altri intervengono al posto nostro in un senso o nell'altro saremo presenti la costruzione di un'organizzazione in una fase così è questo è preparare il futuro e nello stesso tempo ovviamente combattendo le battaglie di oggi e quindi a me dico anche diciamo che ho cominciato a fare attività politica nel lontano ormai 65 giù di lì eccetera diciamo nei primi anni avevo letto solo i libri diciamo tutta la lettera russa francese eccetera poi mia moglie anglosassone ha sempre detto tu non conosci niente la letteratura perché non conosci quella anglosassone che è sterminata quindi che ti frega se hai letto tutto tosto io con gli altri o i francesi diciamo sai poco quindi so poco di letteratura e diciamo così ovviamente poco anche lotta di classe però diciamo è stato un rivivrei tutto quello diciamo sì ho fatto un fracco di cazzate diciamo come può tutti noi però diciamo così perché dico tutto questo non è neanche tanto personale è per dire che in questo tipo non sappiamo come finirà chi vincerà se ce la faremo o non ce la faremo però io sono sempre stato guidato da due cose di due autori assai diverse a distanza di cinque secoli tra di loro uno l'ho detto così tante volte Dante Alighieri il canto dell'inferno il canto di Ulisse varcare le colonne d'Ercole un compagno mi ha detto sì le hanno varcate e sono precipitati sono stati sconfitti è vero ma le hanno varcate più dopo poi però quelle colonne d'Ercole la varcate la comune di Parigi ed è precipitata e la varcate anche la rivoluzione russa con tutti i problemi dopo quindi le colonne d'Ercole che è il capitalismo deve essere varcate e dall'altra parte diciamo così cinque secoli dopo nella loro morale la nostra libro appunto quando era mezzanotte del secolo diciamo si conclude con questo dice esattamente ricordando che la lotta di classe agli alti e bassi grandi sconfitte poi riprese e anche grande energie passioni alti livelli della coscienza e dice ma in fondo per un essere umano per gli uomini e le donne che cosa c'è di maggiore soddisfazione intellettuale che non partecipare a queste battaglie per la trasformazione del mondo con uno spirito vivido lucido per capire le cose è meglio la nostra condizione che capiamo le cose o quello che non capisce niente e pensa che Salvini o Grillo anche sia la soluzione io penso che è un'alta soddisfazione per tutti noi poter essere partecipi di un processo che non accetta questo stato delle cose esistenti ma che non individualmente nel chiuso della propria cameretta ma con un'organizzazione prova a reggerlo prova a costruirlo a me pare un'altra è una cosa che mi dà ancora una certa forza a una certa età è la conclusione di un congresso in cui devo tirare su lo spirito dei compagni forse anche questo tipo di cosa qui ma è soprattutto una coscienza razionale serve siamo utili è importante che ci sia sinistra anticapitalista lavoriamo bene possiamo lavorare molto meglio però di certo da questo congresso io credo per l'apporto che ci avete dato tutti voi possiamo fare meglio grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti